La strada intrapresa dall'amministrazione comunale per rendere più sostenibile la mobilità cittadina, rivoluzionando alcuni concetti di mobilità, come quella interna ai quartieri, soprattutto residenziali, e quella molto impattante legata a quella scolastica, soprattutto primaria, incomincia a delinearsi sempre più marcatamente. Dopo Sant'Orso, quartiere pilota di Io vado a scuola da solo, anche il quartiere del Poderino, con al centro il polo della Nuti, sta subendo radicali modifiche per abbattere l'impatto massivo, soprattutto delle quattro ruote, in alcuni frangenti della giornata, come l'entrata e l'uscita dalla scuola, considerando che gravitano ben 800 studenti sull'istituto. Già via Piemonte, con la creazione di un senso unico parziale ed un percorso pedonale e la zona 30, è stata profondamente trasformata, ma ora, grazie ad alcuni allacciamenti strategici con strade già esistenti, in alcuni punti chiave, come il passaggio nei pressi della rotonda di via Fanella, renderanno il collegamento con il popoloso quartiere di Fano 2, dove nella piazzetta esiste un punto di raccolta dei bambini, verso la scuola Nuti, raggiungibile, ora dai più piccoli cittadini a piedi, assolutamente sicuro. Con questi accorgimenti, con questi microinterventi, riusciamo a garantire non solo una sicurezza assoluta del percorso, ma una moderazione della velocità delle macchine che girano in quel quartiere. E questo è l'obiettivo più importante, che quando uno entra in un quartiere residenziale, deve sapere che in quelle strade ci si possono muovere dei bambini, così come degli anziani, così come dei pedoni, delle mamme con la carrozzina o delle signore con la borsa della spesa. E quindi le macchine devono andare a 30. Nel momento in cui tutti gli automobilisti rispetteranno questa regola, sarà tutto più sicuro, senza necessità di fare i corridoi riservati, e quindi i quartieri saranno più vivibili e più tranquilli.